buonasera da Nardelli Sport benvenuti all'angolo tecnico oggi vi presentiamo la scarpa Fischer Podium una rivoluzione nelle scarpe da competizione è una scarpa come si nota già dalla forma molto aggressiva è una scarpa molto stretta nella zona della pianta per cui un ottimo contatto del piede sullo scarpone stesso grandissima sensibilità un gambetto anche sempre molto aderente plastiche di nuova concezione più gommose rispetto al solito per cui ci permette un'ottima flessione dello scarpone è un ottimo ritorno la particolarità assoluta è data dal gambetto che grazie a una placchetta di regolazione possiamo anche farlo ruotare sul suo asse in maniera tale da poter portare più o meno forza sullo sci nella parte anteriore per velocizzare o ritardare l'entrata in curva dello sci stesso nella parte superiore troviamo un booster di nuova concezione che ci permette di avere un ottimo tiraggio e internamente abbiamo una scarpetta fatta in pelle naturale per dare un ottimo feeling del piede all'interno dello scarpone e avere anche una grande durata nel tempo questo è tutto da Nardelli Sport arrivederci alla prossima puntata